Grazie. Vuole darci la giacca da mettere dietro? Buonasera, buon pomeriggio anche. Allora, oggi abbiamo il piacere di avere con noi Gianrico Carofiglio, che invito a venire. Vieni Gianrico, vieni. Vai, 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 vai. E anche Emanuela Giampaoli. Grazie a avere con noi Gianrico Carofiglio è un privilegio non da poco. Sono convinto che quasi tutti voi, o la stragrande maggioranza, conoscono il suo modo di scrivere. Lo dicevo quando è arrivato, io l'ho finito da qualche giorno, la caratteristica del leggere Carofiglio è che come cominci non ti molla più. È vero signora, vedi? È così. Allora, noi siamo felicissimi di averlo con noi. Il libro è Rancore, pubblicato da Inaudi, ed è il terzo incontro della Voce dei Libri. Per chi non fosse mai venuto, la Voce dei Libri è un'iniziativa organizzata dal Comune di Bologna e le istituzioni biblioteche con il contributo essenziale di Copp Alleanza 3.0. Come sapete, ogni iniziativa ha un supporto economico e oltre a Copp Alleanza c'è una banca. Anche questo mi preme dirlo perché sono poche le banche che finanziano la presentazione di libri. Fanno altre storie, ma presentare libri, la BIPER presenta libri con grande entusiasmo e con un sostanziale supporto. Allora, è il terzo degli incontri. Se volete vedere il programma intero lo trovate lì sopra al tavolo all'ingresso dove ci sono i libri. L'autore alla fine firma copia del libro. Voglio solo dire che questa iniziativa è venuta fuori da un grande libro di Ezio Reimbondi che si chiamava La Voce dei Libri. La Voce dei Libri, per chi ama la lettura, è nata in libreria, costa pochissimo, ma è tutta un'entusiasmante carellata sulla bellezza del leggere e cosa può regalare. Un'altra 30 secondi di rubo. Non lo so se ce l'ho già letto, ma abbiamo messo qui nell'invito poche parole di Mattarella all'inaugurazione della Fiera del Libro di Torino di due anni fa, ma non è invecchiata per niente. E dice Sergio Mattarella, che avere un Presidente della Repubblica come questa non è poco, e dice «La lettura non può essere ridotta a consolazione o semplice svago, è semmai una porta sul mondo che ci apre alle conoscenze di esperienze lontane, che ci mostra cose vicine che non avevamo notato o capito, che ci fa comprendere le grandi potenzialità dell'umanità che ci circonda, perché leggere ha a che fare con la libertà e con la speranza». Io credo che un discorso del genere all'inaugurare un salone del libro vada ripetuto molte volte per far capire cosa vuol dire leggere. Un'altra cosa, prima di dare la parola a Giampaoli. Se non l'avete mai visto sul terzo canale, lo dico perché è importante, Gianrico Garofiglio cura una trasmissione che si chiama Dilemmi, Rai 3 alle 11.20 di sera del lunedì. vedo delle teste che... beh, è stupendo. E lì è proprio lui. Stasera lo vedrete in persona, ma lì lo vedete come ragiona, come si comporta, come autorizza le parole, come le reprime, vi disegno. Do la parola a Giampaoli. Vai, grazie. Buonasera a tutti, ciao Gianrico, benvenuta a Bologna. Grazie. Siamo molto contenti di averti qua a parlare di questo secondo libro con il protagonista Penelope Spada. Parto dalla domanda più banale, che è quella che tu hai detto più volte che questo libro nasce quasi come un adempimento contrattuale nei confronti dei lettori. nel senso appunto che dicevi che insomma forse Penelope era più nata come il personaggio di un romanzo singolo, della disciplina di Penelope, in cui però qualcosa del suo passato non veniva, anzi molto del suo passato non veniva svelato, cioè non veniva svelato forse la ferita che lei si porta dentro e quindi un po' come un debito nei confronti dei lettori, nelle richieste che ti sono arrivate, hai deciso di riprenderla in mano. Però aggiungo che mi pare che in realtà ti appassioni questo personaggio che forse non sono stati soli lettori a chiederti di scrivere un'altra storia in cui la nostra investigatrice, ex PM, è protagonista. Buonasera a tutti, grazie. Devo fare una premessa della seguente, quando si fanno domande del genere a uno scrittore o una scrittrice, il rischio che lo scrittore e la scrittrice si parli addosso è altissimo, in particolare che cominci a cianciare di personaggi che prendono il sopravvento e pretendono di essere raccontati e quasi che lo scrittore sia una sorta di entità medianica fra la divinità della letteratura e i cosi. Non funziona così, come diceva Brecht è un lavoro da falegnami. Dopodiché il lavoro da falegnami è un lavoro di altissima intelligenza e qualità e la scrittura ha una componente di artigianato che è il 95, 96, 97%. Poi c'è quel dettaglio che può cambiare tutto quanto. Perché dico questo? Perché fatta la premessa mi accingo a smentirla e quindi a cianciare anch'io di personaggi che prendono un po' il sopravvento. Quando ho scritto il primo romanzo con Penelope, cioè la disciplina di Penelope, che adesso essendo uscito il secondo io considero piuttosto un prologo, una sorta di numero zero, di avventura introduttiva del personaggio, dell'ambientazione e dei temi, quando dicevo che ho scritto questo primo romanzo che mi era stato richiesto, quasi commissionato, perché si festeggiava il novantesimo anniversario della gloriosa collana del giallo Mondadori e quindi la Mondadori ha chiesto a diversi autori italiani di partecipare a questo festeggiamento scrivendo un breve romanzo. Io li chiamo romanzi di investigazione, mi piace molto di più di romanzo giallo che peraltro, come voi sapete, è una tipica espressione italiana perché i romanzi polizieschi in Italia erano nella forma del libro colorato di giallo. Ma è diventata così potente che una volta in un contesto non di analfabeti, negli Stati Uniti, un signore italiano, dice a degli interlocutori americani, peraltro professori universitari e simili, che lui amava molto gli yellow books e questi lo guardano, perché mai? E ci fu un momento di incomprensione così sublime, una sorta di immobilizzazione improvvisa dell'aria, poi insomma volgarmente mi intromisi io a fare il presuntuoso professore e dissi qual era l'equivoco, ma insomma a parte il giallo, che è ovviamente una bella espressione che è un interessante fenomeno di cui una parola si trasforma nel suo significato, a me piace l'idea del romanzo di investigazione, perché nell'idea dell'investigazione, del romanzo di investigazione, c'è un connotato di ricerca, per quanto mi riguarda, in cui c'è un innesto tra investigazione di tipo tradizionale, l'indagine su un delitto, un possibile delitto, e l'investigazione interiore del protagonista o della protagonista. Ma insomma, l'idea era quella di scrivere un breve romanzo, da tempo aveva voglia di scrivere una storia con una protagonista femminile, che poi una protagonista maschile sarebbe difficile, e quindi mi era parsa l'occasione migliore per fare questo esperimento senza troppo pericolo. In fondo, sì, appunto, mi do un tono dicendo romanzo di investigazione, un giallo, magari se non viene tanto bene diremo che è stata un'esercitazione. Però, fatta questa premessa, sono accadute alcune cose. Una, quando ho cominciato a scrivere, e avevo cominciato a scrivere con la terza persona, voi sapete bene che è un romanzo, si può scrivere con diverse persone, la terza, la prima, anche la seconda persona, alcuni romanzi molto interessanti sono scritti in seconda persona, io stesso ho scritto metà di un mio romanzo in seconda persona, e ognuna di queste scelte esprime un rapporto di vicinanza o distanza rispetto al personaggio e alla storia. Avevo cominciato con la terza persona, in fondo è una donna, su via, e dopo un po' però mi sono detto che era una vigliaccheria, e quindi ho cominciato a scriverla in prima persona. Quando ho cominciato a scrivere in prima persona, adesso inizia la fase delle ciance dello scrittore posseduto dal demone, e lei ha cominciato a prendersi un sacco di spazio, ha cominciato a far intuire che c'era qualcosa di tremendo nel suo passato, tutta roba che non poteva essere in quel breve romanzo che andava scritto in tempi brevi. Quindi ho raccontato la storia della investigazione di quel romanzo, ho raccontato alcune cose di quel personaggio, e ho fatto intuire, ma non come una scelta deliberata, tutto quello che c'era dietro. Qualcuno di voi avrà sentito parlare del principio dell'iceberg, di cui parlava Hemingway, quello per cui uno scrittore che faccia seriamente il suo lavoro deve sapere dei suoi personaggi e delle loro storie molto di più di quello che scrive. Quello che scrive e quello che c'è nel libro è la punta dell'iceberg, ma quello che tu, se non sei un cialtrone, devi sapere sui personaggi e delle storie è molto di più. Io sempre rimango molto perplesso quando parlando con altri autori mi dici, vabbè ma questo come si spiega? Ah che ne so, cioè non va bene, è una questione di etica della scrittura, comunque ho fatto anche la lezione di etica della scrittura, tutta quella roba lì era lì sotto, ma non pensavo di doverla svelare, perché nella più gran parte dei casi semplicemente non si svela, serve a dare equilibrio alla storia dei personaggi. E poi come hai detto, c'era una cosa enorme non svelata, cioè che cosa le era successo, un sacco di lettori, devo dire, in molti casi piuttosto seccati, diciamo, vabbè, è arrivata alla fine che le era successo. E quindi un po' per questo, e un po' perché effettivamente sgomitandosi era preso parecchio spazio, devo dire, tanto spazio, a me è capitato in due occasioni, ci sono parecchi libri che ormai ho scritto, ma una tale aggressività del personaggio, nel pretendere il suo spazio, mi è capitata per un breve romanzo di ormai 14 anni fa che si intitola Una notte a Bari, né qui né altrove, che nasceva con una guida sentimentale della città, poi io pensai, beh, adesso ci metto tre amici che si ritrovano e la faccio raccontare a loro, e questi tre si sono presi veramente il romanzo. E poi in le tre del mattino, in cui all'inizio il padre doveva essere un personaggio davvero di supporto, di contorno, ed è, secondo me, diventato il protagonista principale. Ho cianciato abbastanza. E quindi, appunto, per raccontare cosa c'è sotto l'iceberg, però ti sei da un lato, ho dovuto inventare una nuova indagine di Penelope che in qualche modo la riporta al suo passato, un'indagine legata al passato. Io dico pochissimo perché ho il terrore sempre di fare spoiler e di rovinare. Comunque comincia con la morte di un barone universitario, il professor Leonardi, una morte in realtà che risale due anni prima e la figlia va nel bar, nel bar Smile, dove ormai Penelope che ha eletto al suo ufficio e le chiede di indagare su questa morte del padre, apparentemente per infarto, principalmente perché è stata tagliata fuori da una parte rilevante dell'eredità e i sospetti ricadono naturalmente sulla seconda moglie che è giovane, è un'attrice, insomma, molti anni, una trentina di anni di meno e questo diciamo è l'incipit. Il resto chiederei a te di così dirci come è collegato alle due storie e anche perché hai raccontato una punta dell'iceberg, però non l'hai svelata poi senza appunto svelare, ma mi chiedevo se poi saprevo anche di più. Intanto vorrei dirvi che ci sono tre romanzi in uno quindi vi suggerisco di comprarlo perché è conveniente, diciamo. Fatta questa elegante premessa, c'è in questo libro il romanzo classico di investigazione, c'è l'indagine su un fatto che non si sa se sia un delitto o no e lo si scopre alla fine, se è un delitto o no. apro una parentesi, a me piace molto giocare con l'idea di un'indagine su qualcosa che non si sa se è qualcosa su cui indagare e per cui alla fine si può anche scoprire che non c'è proprio un bel niente perché il mondo reale è così, il mondo reale è molto meno ordinato diciamo delle storie, dei romanzi che sono un modo per mettere ordine nel caos per l'appunto. Poi c'è la storia al passato e quindi lo svelamento di quello che le è successo, ovviamente la storia al passato ha una relazione molto diretta e intima con l'investigazione del presente anche se sono due linee narrative del tutto autonome, infatti io le ho scritte separatamente come se scrivesse due libri e poi c'è una terza storia, una terza linea narrativa, un lungo racconto se vogliamo pensare alle proporzioni che è l'incontro di Penelope con quest'uomo così fuori dallo schema delle sue abituali predilezioni maschili, un uomo che la fa saltare alcune sue categorie di lettura del mondo maschile, categorie non particolarmente ottimistiche sugli uomini, infatti sono stato molto approvato dalle lettrici, dicono che ho... perché a un certo punto lei dice da quando ero una ragazzina da quando ero una ragazzina gli uomini mi desideravano, ero bella, ero intelligente, ero simpatica, gli uomini mi desideravano ma nel fondo io lo sapevo che avevano paura e se qualcuno ha paura di te non può veramente piacerti e poi si ferma a pensare in questo monologo interiore e dice lui non aveva paura, non sapevo per quale motivo ma un dato era certo, non aveva paura pur essendo completamente fuori dallo stereotipo del maschio duro e forte maschio alfa espressione orrenda una delle più vi giuro offese che mi hanno fatto negli ultimi mesi hanno detto ma tu sei maschio alfa gli ho dato una testata ho detto sono mal ma io penso che si possono dire poche cose più offensive diciamo così oggi a un uomo speriamo mia opinione diciamo che ovviamente è una menzogna ma la dico per accattivarmi la vostra simpatia no davvero trovo veramente c'è l'unico stereotipi maschili sono insopportabili e il personaggio di Alessandro è anch'esso un tentativo di esplorare un'idea in modo diverso in cui uno può essere molto uomo senza essere pateticamente maschile o mascolino una cosa che forse possiamo dire insomma senza svelare che a un certo punto spunta la massoneria tra l'altro con un nome di una loggia che ricorda un'indagine poi avvenuta realmente in Italia che è una loggia bohemia nel romanzo ricorda un po' la loggia ungheria milanese che in effetti decideva di cariche pubbliche politiche eccetera quindi immagino che non sia stato un caso ed ero così curiosa di sapere come venendo anche dalla tua esperienza quanto ancora la massoneria ogni tanto rischia di diventare una cosa un po' mitologica c'è ovviamente poi qua Bologna la P2 insomma è una cosa penso che non sia la massoneria che è diciamo una categoria ampia è in gran parte persone composte di persone che si associano cioè uno può piacergli a non piacerli ma si tratta di organizzazioni trasparenti uno va su internet e trova i nomi degli iscritti conosco anche qualcuno sono stato invitato ho fatto questa esperienza che è stata veramente interessantissima qualche anno fa al raduno nazionale del grande oriente d'Italia che si è tenuto a Rimini questi mi hanno invitato io ho accettato loro erano così stupiti e grati perché spesso rispetto a loro c'è un atteggiamento di sospetto non sempre infondato diciamocelo io sono andato a parlare a fare una conversazione come questa è stata la volta in cui ho firmato più libri nella mia vita un'ora e cinquanta minuti un'ora e cinquanta minuti c'erano centinaia di libri centinaia va bene la gente dalla piazza e quindi insomma dicevo ci sono quelle che loro chiamano le obbedienze ufficiali obbedienze sarebbero le diverse scuole grande oriente loggia di rito scozzese e un'altra cosa ancora che sono io non ho nessuna attrazione per questa roba ma c'è chi è appassionato dal punto di vista culturale c'è chi partecipa perché ritiene a volte anche a ragione che questo possa servire per carriera o affari ma questo vale anche per altre associazioni diciamo più o meno dello stesso tipo poi ci sono quelle che loro stessi chiamano io ho studiato parecchio le logge spurie cioè o le logge segrete all'interno di una massoneria ufficiale o proprio gente che esce e costituisce e questo c'è nel romanzo un'associazione diversa che chiamano massoneria ma non appartiene a nessuna obbedienza e in qualche caso abbiamo visto in passato e forse anche in passato recente sono luoghi diciamo nel migliore dei casi di affarismo poco trasparente e in altri casi anche di commissione di reati perché ho preso diciamo la suggestione della massoneria perché è una suggestione nel senso che uno se stai parlando di una storia investigativa che ha particolarmente preso chi indagava poi devi immaginare una preda diciamo è una posta alta e diciamo il fatto che uno stia indagando su un'associazione segreta che condiziona nomine di magistrati professori universitari appalti e roba del genere beh è una posta alta quindi non svegliamo nulla ma possiamo dire che l'indagine del passato riguardava una cosa di questo genere e io l'ho scelta essenzialmente per questo qui c'era proprio una ragione di ingegneria narrativa di costruzione della storia e mi piaceva anche di poterci riversare tutto quello che avevo letto per mia curiosità sulla massoneria anche su tante cose che sono a volte bizzarre ma molto interessanti per dire negli Stati Uniti la massoneria è popolarissima ed è molto più alla luce del sole di quanto non sia qui e uno dei ricordi più impressionanti di un mio viaggio negli Stati Uniti è stata la visita del tempio massonico di Philadelphia che è un posto incredibile è come una cattedrale ed è nel pieno della città e celebra diciamo il fatto che la storia americana è segnata da presidenti e in generale uomini potenti iscritti alla massoneria quindi sapevo un sacco di cose e siccome nella scrittura vale la regola del maiale per cui non si butta via niente e allora le ho utilizzate invece poteva avere molti altri titoli credo poteva avere molti altri titoli penso che sia forse anche un titolo in cui avevi voglia di dire qualcosa forse al di là del romanzo? rancore allora rancore è stato quasi la mia prima scelta e poi parlando di in casa editrice insomma c'è chi ha fatto delle obiezioni ha detto no però rancore è un titolo è un titolo impegnativo la gente si spaventa non comprano il libro quanti lo dovrebbero comprare fa paura troviamo un'altra cosa l'idea di addomesticarlo che insomma bisogna anche rispettare le esigenze commerciali insomma ne abbiamo parlato a lungo c'erano delle alternative tutte molto più deboli molto più rassicuranti tipo? ma a me se le dico però forse no perché alcune potrebbero abbiamo anche pensato potessero svelare troppo però era no una una era i compagni di banco per dire che non era male però era molto più debole e insomma alla fine al momento di decidere abbiamo votato e inopinatamente anche in casa editrice hanno cambiato idea secondo me abbiamo fatto bene perché adesso a parte tutto non è scommettere sull'intelligenza delle persone sul fatto che non si facciano spaventare anche da una parola un po' ostica in un titolo quella parte di lettori che legittimamente cerca l'intrattenimento beh è una cosa positiva io mi considero un privilegiato per molte ragioni ma rispetto ai libri mi considero un privilegiato perché i miei libri vengono letti da lettori molto diversi e vengono letti per ragioni diverse spesso questa è una cosa molto positiva ci sono come dire vari gradi c'è una stratigrafia però anche il fatto che i lettori che legittimamente prendono questi libri perché vogliono fermarsi alla parte di intrattenimento poi non si fermano mai a quella questa è una delle cose diciamo positive secondo me se in un libro non c'è solo quello che qualcosa o molto filtra oltre l'intrattenimento però io penso che sia giusto scommettere sull'intelligenza delle persone e visto che Romano lo ha citato una scommessa sull'intelligenza delle persone proprio quel programma che è in modo diciamo molto avventuroso e quasi casuale ci siamo trovati abbiamo qua il produttore quindi un corre un corresponsabile diciamo quasi clandestina però insomma un programma in cui si parla di temi complessi in televisione dicono alti che c'è una certa retorica autocelebrativa nella ma insomma di cose complesse abbiamo parlato nella puntata precedente di temi del fine vita che non è esattamente una roba appunto da intrattenimento però secondo me è stato un dibattito rigoroso è appassionante anche commovente vi consiglio mi permetto di consigliarvi quello della settimana prossima che è molto divertente perché per noi è parso divertente poi magari lo trovate insopportabile voi in questo caso mi farete causa ed è sul dire o no la verità bisogna dire sempre la verità o è giusto o è lecito o è morale non dirle in qualche occasione e devo dire abbiamo avuto il programma si innesta su una introduzione del tema da parte diciamo del conduttore che sarei io il mio squilibrio mentale è dimostrato dal fatto che parlo di me in terza persona e poi c'è un dibattito fra due interlocutori che sono i sostenitori delle due tesi contrapposte i due interlocutori del lunedì prossimo sono Luca Barbareschi e Chiara Valerio non potevano essere più diversi e devo dire abbiamo visto dei numeri notevoli abbiamo anche qualche passaggio che potrebbe diventare rapidamente un meme però era un dibattito alto ne abbiamo fatto un altro che arriverà forse la settimana successiva sull'impegno degli intellettuali c'era il capostruttura Rai che era agghiacciato diceva ma è troppo alta sta roba io scommetto che la gente la vedrà volentieri poi perderò la scommessa e non farò da grande il conduttore televisivo e ce ne faremo una ragione però le prime due puntate abbiamo fatto recordi ascolti ripeto non con le ballerine che peraltro ci piacciono con le canzone canzoni ci sono per inciso vi facciamo riscoprire una meravigliosa canzone di Giorgio Gaber che fa da sigla finale e che nell'ultima puntata verrà cantata per intero da un giovane cantautore italiano che si intitola appunto il dilemma e vi consiglio di andare a risentire perché è un capolavoro che io incredibilmente nella mia eccezionale cultura non conoscevo e quindi diciamo uno degli aspetti positivi di questa è che ho anche tra l'altro con tre regole che insomma sarebbe bello no? fossero assunte in tutti i talk show pensavo anche all'intervista a Lavrov è interessante come l'ha impostata forse come sarebbe sì noi abbiamo abbiamo voluto far precedere il dibattito dalla enunciazione di tre regole che sono il minimo sindacale per me di un dibattito civile e cioè divieto di attacco alla persona divieto di manipolazione degli altri argomenti cioè non puoi mettere a caricatura quello che ha detto l'altro per poi attaccare la caricatura devi affrontare quello che ha detto se sei capace è oner della prova cioè se fai un'affermazione soprattutto un'affermazione eccentrica vedo che gira per esempio in rete in queste ore l'affermazione che gli ucraini starebbero attaccando ferocemente l'isola dei serpenti perché lì ci sarebbero i corpi degli americani che sono andati lì a combattere che li devono recuperare e la cosa viene detta così e quando qualcuno gli risponde dice ma che state dicendo qui magari è anche vero ma ci avete delle prove e no voi dovete provarci che non ci sono ecco questa è l'inversione dell'onere della prova se uno dice una cazzata può e deve essere richiesto di dare le prove per dimostrare che per l'appunto non è una cazzata se no rimane non ripeto la terza volta quello che ho detto e quindi noi annunciamo queste tre regole all'inizio cioè i dibattiti scorrono con un garbo con un equilibrio e con un dissenso fortissimo però che era più o meno quello che avevamo avevamo in mente ci ha reso molto simpatici presso tutti gli altri talk show questa cosa sì devo dire sono sicuro che ci pensano con affetto perché l'amministratore delegato della Rai mi dicono che abbia detto a qualche conduttore di talk dove accadono cose un po' incresciose dovete fare come nel programma di caro figlio io mi sono sentito cioè proprio sei pugnali diciamo nella schiena e vabbè ce ne faremo una ragione senti ma appunto diciamo che nella tua vita professionale sei stato magistrato sei scrittore e poi è quasi una terza professione il tuo impegno sulla parola sul linguaggio dalla manomissione delle parole del coraggio della gentilezza appunto anche dilemmia a un'impostazione molto etica così come ti è venuta nel senso che è veramente quasi un terzo filone del tuo lavoro importantissimo e non so la paga era buona no non è mai mi accorgo sempre che quando si tocca questo argomento il rischio diciamo ancora una volta dell'enfasi autocelebratoria è altissima però io facevo il magistrato e facendo il magistrato mi sono progressivamente reso conto di quanto la torsione dell'italiano in una lingua apparentemente italiana ma una lingua diversa altra che si verifica nel mondo della giustizia come nel mondo della burocrazia e in altri mondi disciplinari non sia semplicemente un fatto da storie divertenti che se volete vi posso anche raccontare anzi lo farò ma è una questione che ha a che fare con l'esercizio opaco del potere se chi esercita il potere parla in maniera non comprensibile scrive in modo affetto da oscurità non necessarie che è ovvio che una lingua tecnica ha delle oscurità inevitabili e allora questo dipende da molte ragioni che non sto a enunciarli qua ma una di queste la più grave probabilmente ha a che fare con una gestione una manipolazione del potere che è molto poco democratica mettiamolo così la spinta la spinta fondamentale è stata quella e anche il fatto che ci fosse nelle pieghe della riflessione sulle lingue che rientrano nella nozione di italiano ma sono altro ci sono vari spunti anche quelli divertenti c'è un aneddoto meraviglioso stavo anche per dire che fa ridere poi c'è il mio fratello che ha lavorato e lavora nel teatro e mi dice non devi dire mai che fa ridere una cosa prima perché se poi non fai ridere fai una figura orrenda quindi la mia preghiera sarebbe di ridere ugualmente dopo che l'ho detta anche se non fa ridere però io l'ho trovata meravigliosa nei processi civili il verbale di udienza viene scritto dagli avvocati perché ci sono troppi fascicoli quindi contemporaneamente gli avvocati scrivono assumono le prove testimoniali e poi lo portano al giudice per la firma e per i provvedimenti questa è una prima premessa e la seconda premessa è che di solito quando un avvocato vuole sostenere la sua posizione facendo riferimento all'orientamento della Cassazione magari l'orientamento della Cassazione è maggioritario o unanime e dice che unanime giurisprudenza è nel senso della tesi sostenuta questo avvocato porta davanti al giudice vero raccontato dal testimone cioè da chi era presente quindi perché queste cose hanno anche una dimensione leggendaria gli porta il fascicolo e il giudice legge il verbale quindi è un apostrofo anime ma non è questo è fatto divertente perché questo questo giudice genio guarda alza lo sguardo quindi anime e femminile allora è pieno di sta roba qua e quindi insomma il primo spunto che è uno spunto di svago però si nutre no c'era quest'altra quando facevo il pretore stavo facendo un'indagine su delle truffe a dei vecchietti cioè espressione che io faccio un po' di fatica a pronunciare ora perché temo che fossero più o meno i miei coetani di oggi allora insomma delle persone adulte e quindi insomma c'erano questi qui che facevano queste truffe e stavo parlando col maresciallo che si occupava dell'indagine peraltro un bravissimo maresciallo non proprio un letterato e a un certo punto lui mi guarda con lo sguardo che si illumina di un'intuizione e fa e il giudice e se se li incriminassimo per circoncisione di incapace è un'idea la prova di battimento sarà imbarazzante però insomma è pieno di questa roba potete tenervi fino a stasera con episodi analoghi non lo farò perché vedo già una preoccupazione però ecco l'alto e il basso si mischiano la lingua nelle sue torsioni si presta a riflessioni anche molto molto complesse articolate e secondo me che hanno a che fare con l'etica civile ma anche insomma uno svago diciamo non bile di questo tipo senti ma tornando secondo a Penelope non è che come come a lei ti manca molto fare il magistrato ma sì questo non c'è dubbio che sia un dato che è stato quasi inconsapevole se non nella scrittura del primo certamente nella scrittura del secondo io ho dato le dimissioni dalla magistratura nel 2013 ho fatto quel lavoro per tanti anni e mi è piaciuto farlo poi io l'ho fatto in anni in cui anche lì era in qualche modo un privilegio poterlo fare negli anni 90 sei un ragazzino che si occupava di certe cose criminalità organizzate in certi posti eravamo pochissimi avevi l'impressione di fare qualcosa di utile e avevi l'impressione fondata che il tuo lavoro servisse e facevi qualcosa che va detto con molta chiarezza il lavoro dell'investigatore del pubblico ministero praticato nel perfetto rispetto delle regole ha in sé un elemento elementare e potente cioè tu soprattutto se ti occupi di certi reati ti libera un po' dalla preoccupazione delle distinzioni sottili su cosa è bene e cosa è male perché se stai indagando su uno che ha fatto 49 omicidi potrei andare alla ricerca di tutta la complessità del mondo come taluni suggeriscono per altre cose però ha fatto 49 omicidi lo devi prendere e lo devi far condannare e questo è elementare e quindi soddisfa un bisogno di semplificazione che tutti quanti noi abbiamo quindi io l'ho fatto in anni in cui c'era tutto questo eravamo pochi questo implicava anche un certo pericolo personale però io ho nostalgia di tutto quello che c'era allora nostalgia non significa rimpianto io penso di aver fatto bene ad andarmene in un momento in cui mi ero reso conto che la scrittura era diventato il lavoro principale e quindi non potessi fare il magistrato come secondo lavoro peraltro se fossi ancora un magistrato adesso farei il capo di qualche ufficio e mi annoierei sanguinosamente perché il lavoro bello era quello che facevo io e quello che faceva Penelope cioè il lavoro dell'investigatore di chi si occupa di quella roba là per cui ho momenti di nostalgia quindi mi è sembrato un buon modo per raccontarla di un personaggio che per tanti aspetti è così diverso da me però ci sono è vero delle notazioni fortemente autobiografiche nella nostalgia per quel lavoro e da bambino cosa volevi fare lo scrittore il giudice il giudice proprio no da bambino dicevo le cose più bizzarre alcune credo perché volevo dare l'impressione di essere un bambino intelligente quindi in certo periodo dicevo volevo farlo psichiatra ma non avendo la più pallida idea di cosa facesse lo psichiatra e poi per un certo periodo avevo detto di voler fare l'ingegnere navale anche lì non avevo la più pallida idea però mio padre era ingegnere quindi volevo fare una cosa e poi una cosa che mi piaceva realmente di più come idea era quella di fare i fumetti e i cartoni animati e quando sono diventato un po' più grande non dicevo che volevo fare lo scrittore da grande non ho mai pensato che potesse essere un lavoro e immaginati quindi il mio stupore quando mi pagano regolarmente per farlo ora ma però dicevo che mi sarebbe piaciuto scrivere diciamo come secondo lavoro che in generale è una buona idea questo da sempre da quando ero piccolo io sono un buon esempio della teoria psicoanalitica della sublimazione la sublimazione dice in sostanza se sei un assassino potenziale puoi trasformare questa tua pulsione distruttiva in un'attività socialmente accettabile quindi fai il chirurgo no è vero ma voi provate a chiedere a chirurghi diciamo onesti su questo io l'ho chiesto ad alcuni hai fatto i tagliare io ad alcuni ho detto ma se esistesse un modo per fare il vostro lavoro eliminando completamente il tagliare saresti contento io vedevo quindi effettivamente no cioè non c'è nessuno che ha detto si vabbè comunque a parte i chirurghi ci sono chirurghi in sala dicevo ci sono chirurghi in sala questa è come la battuta a teatro c'è un dottore in sala come nelle strisce di Charlie Brown le cose che scrive Snoopy allora chiese c'è un dottore in sala lui si alzò e disse ho una laurea onoris causa in teologia da allora il loro rapporto cominciò a guastarsi ma in ogni caso dicevo per quanto mi riguarda siccome ero un bambino che sparava delle panzane pazzesche ero cioè proprio molto vicino al pericoloso confine della mitomania ho sublimato nella scrittura senti a proposito di psicanalisi mi piaceva molto questa cosa che immagino si è piaciuta se non altra in Audi in cui dice cosa vogliono le vittime dei reati le persone ingiuriate dal crimine quelle che hanno perso i propri cari e la propria dignità la punizione dei colpevoli certo anche questo ma la punizione la vendetta più o meno regolata dalle leggi è in gran parte un'illusione ottica ciò che le vittime vogliono davvero è la verità è così io sono abbastanza convinto questo concetto è dietro alcuni dei più grandi processi di rappacificazione nazionale della storia recente per esempio il processo di riconciliazione del Sudafrica dopo la fine della parte è stato realizzato con centinaia di processi in cui venivano messi a confronto Aguzzini e vittime non nella prospettiva di condanne al carcere ma nella prospettiva che gli Aguzzini ammettessero quello che avevano fatto e chiedessero scusa e questo sanava le ferite la giustizia la giustizia riparativa è una prospettiva del futuro questo non significa che non ci siano non ci saranno sempre dei reati e delle persone che devono essere messe nelle condizioni di non nuocere ma non c'è dubbio che in molti casi l'intervento brutale della giustizia penale per come lo conosciamo produce altri danni non risarcisce moralmente non cura la lacerazione che è stata prodotta nel tessuto del senso e nelle vite personali delle vittime dal reato cosa che invece riesce a fare una ricostruzione della verità condivisa in definitiva senti entro in un tema insomma un po' ancora più pesante cioè insomma legato alla verità sul tema della guerra e e su quanto insomma no giustamente tu dicevi sulle pagine di Repubblica appunto che insomma c'è una posizione da prendere insomma non si possono fare tanti distingue però forse mai come in questa guerra abbiamo avuto la sensazione di quanto a lungo per ritornare anche al lavoro del linguaggio forse le fake news o una narrazione sbagliata ci hanno influenzato cioè credo che c'è proprio il tema di la percezione anche in chi fa il mio mestiere di quanto lo schieramento di parte poi porta una narrazione ovviamente lo vediamo in maniera macroscopica nella propaganda russa però poi appunto soprattutto agli inizi della guerra anche i fiori intellettuali di sinistra hanno preso delle posizioni dubitative rispetto alla narrazione dubitativa va benissimo va molto bene e i sottili distingue vanno anche fatti figuriamoci il problema è che quando c'è una frase di Margaret Mead che io amo citare attribuita a Margaret Mead poi non si riesce a capire dove era scritta però io ho sempre attribuita a lei e dice più o meno così il profeta che si scaglia contro le cose che non vanno se non indica le soluzioni contribuisce ai mali che denuncia allora benissimo ovviamente dire ah bisogna fare ogni sforzo per la pace però sia chiaro bisogna fare ogni sforzo per la pace è come dire bisogna voler bene la mamma significa come dire non bisogna dire le bugie ma come vedrete a volte bisogna dirle le bugie cioè è un'ovvietà abbastanza diciamo ridicola in certi casi è ridicolmente tragica in altri perché se io ti chiedo fermo restando che sono d'accordo c'è qualcuno che non vuole la pace qua dentro qualcuno che non vuole la pace alzi la mano ovvio che la vogliamo tutti il problema è come io non ho certezze vedo ieri sono passato sono subito scappato via ma ci sono stato cinque minuti su uno di quei talk di cui ci ameranno molto e c'era c'era Oscar Farinetti è un intellettuale che a un certo punto ha cominciato a sbraitare e lui ha detto certo è che quando si parla di pace con certi toni c'è un po' da insospettirsi ed è ed è una affermazione nella sua semplicità infatti gli ho mandato un messaggio e gli ho detto bravo perché nella sua semplicità è un'affermazione profonda che ha a che fare con molte cose ma per come la vedo io che non ho nessuna certezza se non che se vedo due che stanno per strada a fare a botte e uno le sta prendendo e a terra non ho molti dubbi sul fatto di dover intervenire per cercare di separarli salvo poi a scoprire che quello a terra lo ha provocato lo ha sputato in un occhio lo ha fatto fare la pipì al cane davanti al portone di casa il problema grave che riguarda per esempio gli intellettuali di sinistra di cui parlavi è che in molti casi questa è una cosa drammatica vengono interpretate delle parti in commedia non vengono sostenute delle posizioni ognuno ognuno trova una maschera che in qualche modo soddisfa è orribile da dire il suo narcisismo e quella maschera continua a indossare guardate che la notorietà la carezza mortale della fama dell'essere riconosciuti per strada di avere dei fami e così via è roba pericolosa è roba che in pochi sono in grado di maneggiare con equilibrio e se ti accorgi che dicendo certe stupidaggini perché in molti casi sono stupidaggini questo ti guadagna dei fan degli adoratori viene intrappolato in quella dannata maschera e questo è un fatto insomma io ho sentito non so se sia vera questa cosa l'ho letta però era su una fonte attendibile che è uno dei migliori fino a poco tempo fa intellettuali italiani un uomo di una cultura di una intelligenza fenomenale cioè Luciano Canfora che ne ha infilate una serie e io glielo ho anche detto sia scrivendo sia in persona in televisione si accinge a fare un libro con Francesco Borgonovo cioè avete presente chi è Francesco Borgonovo? con tutto il rispetto è un signore che va ai raduni degli estremisti di destra di simpatia nazista il vice direttore di un giornale di destra ed è un estremista di destra ora per me devono poter parlare tutti ma io non faccio un libro col capo di forza nuova sono anche disposto in certe condizioni e lui cosa ha detto? e lui cosa ha detto visto che dicevi che gliel'hai detto a Canfora? no non questo questa cosa è uscita dopo ho detto questa cosa delle maschere in commedia e poi vabbè altre ma col dispiacere dovuto al fatto che si tratta di un intellettuale uno studioso che potrebbe non essere d'accordo in molti casi ma cioè me mi ha sempre colpito per la penetrante intelligenza per la capacità di analizzare a volte azzeccandoci altre volte no qui sembra tutto proprio quindi no il distinguo vanno benissimo i dubbi vanno benissimo ci sono dei momenti in cui con tutti i dubbi del mondo devi intervenire perché uno sta uno sta subendo e magari sta per essere ucciso e poi si ragiona quale è il modo migliore non lo so tutte queste certezze sulla CIA che manovra Zelensky sugli americani che stanno lì al confine o che magari stanno combattendo lì dentro che questa è una guerra per procura e noi siamo schiavi degli americani e tutta questa ecco tutte queste certezze mi fanno francamente sorridere non perché io abbia delle certezze alternative proprio perché non ne ho ma insomma questa roba sta mettendo a dura prova l'intelligenza collettiva mettiamo così forse no la sensazione è che appunto è la narrazione che viene messa continuamente insomma appunto dicevi il dubbio va bene però forse appunto quello che manca è l'onere della prova ogni tanto nel senso che si racconta la voce la CIA la Russia ma perché quando mi dici scusa ma questo ma 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 tu ma ti bevi queste cose io mi bevo quello che capita però cioè se mi vuoi far bere un'altra cosa dimmi da che cantina viene non tanto non so se ti è piaciuta questa cosa creativa questa fesseria che ho sparato però il concetto è davvero quello il problema è allargando il discorso è il ruolo dei cosiddetti intellettuali cioè parola che io non amo affatto ma c'è un problema che è quello a cui facevo riferimento prima di un bisogno di riconoscimento sulla platea mediatica che non ha nulla a che fare con le competenze col fatto di essere a volte dei serissi studiosi e per tornare a Penelope nel precedente romanzo a un certo punto Penelope ricordando una cosa che diceva sua nonna che è un personaggio diciamo importante nella sua memoria nella sua personalità emozionale dice che la nonna diceva che le cose più stupide le fanno e le dicono le persone più intelligenti non malgrado la loro intelligenza ma proprio a causa della loro intelligenza perché se sei abituato a vedere riconosciuta questa tua intelligenza se magari in un certo ambito sei davvero qualcuno è molto facile che ti scappi il piede sulla frizione quando ti occupi di altre cose e pensi di avere la stessa capacità di leggere decifrare e sentenziare in ambiti in cui non hai nessun tipo di competenza e nei quali faresti molto bene a essere cauto non a stare zitto senti visto che siamo tornati a Penelope mi pare di capire che la ritroveremo che forse sei già no? non sei? non lo so io ho come l'impressione che questi due romanzi in qualche modo abbiano una compiutezza insieme e quindi non lo so perché può succedere di tutto per Guerrieri che è tornato in sei romanzi quando io ho scritto il primo e qualcuno mi diceva ah ma guarda mi piace il personaggio dovresti rifarlo io ho un tono diciamo del letterato un romanzo singolo che è sta volgarità del che sta cafonata proprio non è per me diciamo avete mai visto Kafka che fa il personaggio che ritorna poi in effetti c'era Roth che effettivamente sì ma in ogni caso il mio tono era questo poi mi chiamo Elvira Sellerio e mi disse dottore caro figlio la chiamo per sapere quando mi dà il prossimo romanzo con Guerrieri io faccio un po' meno spocchioso ma sempre inoperente sto pensando a un'altra opera diciamo non credo proprio non è nei miei programmi silenzio di gelo dall'altra parte ah quindi lei non vuole fare veramente non credo beh è un grave errore ci pensi su e io quando raccontavo questa aneddota allora facevo il magistrato dicevo che da magistrato arrestavo per estorsione per molto meno quindi spontaneamente nei due giorni successivi decisi che avevo voglia di fare in realtà fu un'intuizione giustissima perché Guerrieri è un personaggio che vive in un romanzo un macro romanzo che è di sei macro capitoli forse un altro non lo so e Penelope non lo so ancora e lo stai scrivendo nuovo Penelope no non stai con un nuovo libro insomma sono un po' stanco no no c'è un libro che è una cosa del tutto diversa che è nata da un podcast che un anno fa abbiamo fatto mia figlia e io in maniera del tutto casuale erano conversazioni su temi controversi da punti di vista apparentemente inconciliabili cioè quella di una figlia quello di una figlia e quello di un padre ancorché giovanissima una figlia di anni e di anni ora 27 allora era 26 ma anche io ero più giovane un anno fa e questo podcast che è nato proprio come un gioco che è uscito sul quotidiano domani è piaciuto insomma praticamente sono cominciato ad arrivare gli editori che chiedevano di fare il libro che poi è ovviamente una cosa diversa e ci siamo trovati nel mezzo di un'asta per questo libro la ragazza che è ancora alla ricerca di un suo posto nel mondo si trova a scrivere questo libro con me che sarà un libro ho il sottotitolo sicuro manuale di conversazione per generazioni incompatibili il titolo dobbiamo ancora concordarlo anche se c'è un'ipotesi quindi questo sarà il prossimo quindi un dialogo saggio su alcuni temi della modernità poi vediamo l'anno prossimo che cosa invece a Penelope si fa mettere in crisi a un certo punto dalla domanda di Alessandro su cosa leggi e dice non pensavo che una domanda così potesse mettere così in crisi una persona e tra l'altro si dà un appuntamento nelle librerie insomma un grande omaggio alle grandi librerie milanesi così avevo voglia di così magari chiudere chiedendo cosa leggi cosa ti è piaciuto delle ultime cose che hai letto e quali sono le librerie che ami di più beh ma di tutte le città ne ho più d'una quindi non sono sono schedato diciamo così all'epoca ero veramente schedato dalle librerie perché leggevo gratis ora vedo che è diventata una cosa così comune per tenere lì a Bari c'hanno il divano dove ci sono questi signori che vanno tutti i pomeriggi a leggere nessuno gli dice niente io vedo quelli che mettono il libro a posto con il segnalibro addirittura e quindi la questione ha perso diciamo del fascino banditesco che aveva ai miei tempi che invece andavo in libreria e leggevo di nascosto e venivo guardato con aria diciamo minacciosa dai librai ma e quindi ero schedato però no insomma tantissimi tante tante librerie che amavo per esempio a Firenze dove ho vissuto vissuto dove ho fatto ho cominciato l'altro lavoro purtroppo sono chiuso a un grandissimo dispiacere perché non quelli erano posti in cui ero tanto affezionato cosa sto leggendo dunque ho finito di leggere un romanzo un paio di giorni fa di Ethan Hawke che è l'attore che è uno scrittore di qualche qualità aveva scritto un bellissimo romanzo anni fa che si intitolava si intitola mercoledì delle ceneri e questo qui è un buon romanzo molto diciamo per gli amanti del teatro perché racconta di una messa in scena di un Enrico IV ma con insomma l'ho letto dall'inizio alla fine non l'ho abbandonato cosa mi succede con almeno la metà delle cose che comincio e poi sto adesso ho cominciato a leggere o leggere oggi un racconto che mi è stato suggerito in libreria pubblicato da Delphi di Shirley Jackson che è una scrittrice che non conoscevo si intitola la lotteria e poi ho cominciato anche a leggere trovo che sia bravissima il secondo romanzo di Donna Tart che era il piccolo amico secondo me lei è una scrittrice veramente molto molto brava Dio di illusioni è un grande romanzo vediamo questo ci vuoi dire cosa hai abbandonato di recente? ci vuoi dire cosa hai abbandonato di recente magari non di colleghi italiani? in realtà ho letto due libri di autori italiani negli ultimi mesi li ho letti per intero e mi sono piaciuti cosa che siccome non è frequentissimo sono anche due libri che partecipano allo strega spatriati di desiate un bel romanzo un gran bel romanzo e anche il libro della Raimo che forse non è romanzo come struttura è un memoir però è molto ben scritto li ho letti tutte e due volentieri quindi questa è una serata la serata della bontà diciamo non dico niente niente di male non dico mai niente di male su nessuno perché sono un vigliacco comunque sentino per concludere abbiamo citato Guerrieri di Penelope abbiamo parlato a lungo Fenoglio diventerà una fiction cominciano a girare la settimana prossima con Alessio Boni nei panni di quanto ti ha coinvolto e quanto la scrittura televisiva la scrittura ho letto ho capito che hai partecipato alla sceneggiatura in realtà si ho partecipato insomma in come tendenza come ti ha relazioni con questa casa insomma della trasposizione se uno ha delle dosi abbondanti di Xanax a casa può avere rapporti con la Rai e la parte fiction della Rai no in realtà è un lavoro diverso non mi appassiona particolarmente ho seguito in parte su alcune cose per garantire la credibilità delle storie dopodiché secondo me è sano che l'autore dei romanzi non vada troppo da vicino alla macchina che produce i film che saranno necessariamente una cosa diversa devono esserlo e quindi è giusto che appartengano a chi a chi li fa i film che saggezza veramente se vuoi posso leggere un brano per chiudere perfetto però non ho deciso cosa leggere se volete che legga grazie a tutti 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 due per cento di strampalato c'è che non sembra non sembra un tipo strampalato qualcosa mi sfugge e questo non va bene mi hai fatto tornare alla mente ricordi cui non pensavo da un sacco di tempo e Penelope che parla al liceo amavo materie come biologia e chimica mi piaceva osservare al microscopio ma soprattutto ero bravissima in matematica e fisica secondo il professore ero molto portata non so se avesse ragione se cioè avessi un vero talento matematico in seguito non ho avuto modo di verificarlo ma ero la prima della classe sembrava naturale che dovessi studiare quella roba e invece studiato a giurisprudenza e fatto il magistrato aveva uno strano modo di fare le domande senza il punto interrogativo erano domande ma anche non domande come se evocasse un tema e mi lasciasse libera di trattarlo una dote degli investigatori più bravi ho dato la maturità nel 1992 l'anno delle strage uccisero Falcone la moglie e la scorta a maggio io iniziai a pensare che si dovesse reagire a quello che stava accadendo non a parole coi fatti pensai che forse invece di studiare fisica avrei dovuto studiare giurisprudenza e dare il mio contributo dedicarsi a qualcosa che non fosse combattere e vincere quella guerra mi pareva all'improvviso una specie di vigliaccheria d'altro canto studiare fisica o matematica sembrava la strada più conforme alle mie qualità non sapevo decidermi ebbi 10 al compito di matematica facevo lo scientifico e parvi un chiaro segnale poi il giorno prima dei miei orali ci fu la strage di via d'ameli mi interruppi bruscamente ad un tratto non avevo più voglia di proseguire per parecchi secondi ci fu solo il suono metodico della pioggia sul marciapiede di fuori gli uomini avevano sempre avuto paura di me sin da quando ero una ragazzina ero bella ero intelligente apparivo invulnerabile e loro per quanto lo nascondessero anche a se stessi erano spaventati questo mi gratificava mi dava potere mi eccitava soprattutto mi permetteva di ricacciare lontano la mia angoscia mi permetteva di dimenticarla credendo di averla andullata il paradosso è che non può piacerti davvero chi ha paura di te la paura nelle questioni di amore e di sesso fa fare cose molto diverse a volte di segno opposto e quasi nessuna buona io le ho viste fare tutte lui invece non aveva paura doveva esserci una ragione che io ignoravo ma una cosa era certa non aveva paura sei diventata magistrato perché volevi mettere le cose a posto sì un sogno ingenuo e perciò futile e dannoso che non si è realizzato ovviamente mi ha reso infelice lui scosse il capo qualcuno ha detto che non sono i sogni non realizzati ma quelli non fatti a rendere futile è stupida un'esistenza mi è sempre piaciuta questa frase bella è bella me ne ricorda un'altra la dice Clint Eastwood né i ponti di Madison County i vecchi sogni erano bei sogni non si sono avverati comunque li ho avuti lui sorrise di nuovo questa volta con sollievo mi parve di non cogliere lo stesso bagliore di prima contravvengo alle regole ti faccio una domanda alla quale sono sicuro non risponderai ma ci provo lo stesso cos'è accaduto? perché non sei più un magistrato? scossi la testa Alessandro mi fissò per qualche istante la pioggia non accennava a diminuire né mutare il suo ritmo poi si alzò prendendo i nostri calici ormai vuoti ne servono altri due tornò con il vino si sedette e per alcuni minuti rimanemmo in silenzio ho sempre pensato di essere una persona estremamente adattabile finché un giorno ho scoperto che non era così e sono rimasta allibita Alessandro annui come se quello che avevo detto non lo stupisse affatto avevi avuto questa impressione? domandai cercando di controllare l'irritazione nella mia voce non ci riuscii ti dà fastidio? no risposi troppo velocemente va bene ammisi un attimo dopo mi irrita che qualcuno colga le mie debolezze io posso anche parlarne ma gli altri non hanno il diritto di mutarle e come l'hai scoperto? durante l'analisi la dottoressa mi domandò se mi considerasse una persona capace di accettare il cambiamento e adattarsi alle circostanze io risposi di sì avevo dovuto adattarmi a così tante cose nella mia vita mi sembrava non ci fossero dubbi e lei? lei non commentava mai ciò che dicevo questo mi innervosiva tantissimo non commentò neanche quella volta cambiò discorso o almeno a me parve così per un istante persi il filo ebbe l'impulso ebbe l'impulso di toccarlo un impulso di una violenza che avevo dimenticato che forse non avevo mai provato tanto forte provai una nostalgia lancinante per il tempo in cui tutto doveva ancora accadere in cui le cose e la mia vita non avevano ancora preso forma diventando irrevocabili in che modo cambiò discorso? mi scossi domandò se mi fosse mai successo di perdermi da piccola ed era successo sì al supermercato con mia madre mentre lei cercava qualcosa su uno scaffale io mi allontanai almeno credo non è che questo lo rammenti davvero desumo che sia accaduto perché l'unico ricordo preciso è che a un certo punto mi voltai e non vidi più mamma non era dove pensavo che fosse e non era da nessun'altra parte veni presa dal panico scoppiai a piangere disperatamente non so quanto tempo trascorse per me fu un tempo infinito prima che sentissi la sua voce alle mie spalle che età avevi? meno di 4 anni e dopo aver ascoltato l'episodio la dottoressa ti ha fatto riflettere sul fatto che forse credi di essere adattabile ma in realtà hai paura dell'ambiente degli altri e hai bisogno di controllarli eri lì a origliare a farmi venire i nervi comunque sì disse che quando a seguito di certe esperienze il bambino si convince che in caso di bisogno l'adulto non correrà subito in suo aiuto tende a costruire un sistema di protezione come una corazza e si rifugia in comportamenti sempre uguali nella sostanza anche se apparentemente diverse in pratica la storia della mia vita sto per dirti una cosa che non ho mai detto a nessuno nemmeno all'analista ripresi molti anni dopo andavo già all'università parlai con mamma di quella storia e scoprì che lei si era accorta che l'avevo persa di vista non era venuta subito in mio soccorso apposta voleva capire come me la cavavo da sola e si era nascosta per osservarla perché non l'hai raccontato all'analista mi vergognavo per lei per mamma Alessandro respirò profondamente poi si mosse sulla sedia non l'ho mai perdonata continuai una volta era già anziana e non stava bene mi disse che le dispiaceva di non essere stata una brava madre era vero non era stata una brava madre per tante ragioni però adesso era debole sperduta sembrava implorarmi mi tornò in mente quella volta del supermercato e non ebbi pietà di lei banalizzai e dissi ma cosa vai a pensare nessuno nessuno è davvero un bravo genitore è nella natura delle cose hai fatto del tuo meglio stronzate del genere è stato il mio modo miserabile pigliacco per non concederle il perdono senza nemmeno assumermi la responsabilità di quella scelta Alessandro Alessandro si sistemò gli occhiali anche se non ce n'era alcun bisogno non riesce a perdonarti un sacco di cose vero? un sacco di cose non riesco a perdonarmi le spesso mi ossessionano tirai su col naso tirai su col naso accesi una sigaretta bevi quasi tutto il vino almeno questa roba aiuta ad anestetizzare per un po' qualunque cosa avesse detto in particolare sul fatto che bere non è mai una soluzione sarebbe stata sbagliata qualunque cosa lui non ne disse nessuna la pioggia continuava a scendere compatta e ineluttabile ma guardai allora vuoi sapere cosa mi è successo? sì glielo raccontai cosa mi era successo cosa avevo fatto succedere dal principio fino alla fine grazie bravissimi bravissimi così così ottimo vai 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 così facciamogli sentire quanto lo gradiamo ottimo grazie a tutti grazie a Gianrico rancore lo trovate in fondo e immagino che tu abbia voglia di firmare cominciati a firmare esatto può firmare qui fate la fila qui per favore grazie a tutti vieni grazie a tutti 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 grazie a tutti